1956, Olimpiadi di Melbourne, Australia, la partita, ma la partita di pallanuoto. Sì, il Water Polo, che è il nome internazionale della pallanuoto, per la verità, se avete seguito le puntate precedenti, sostanzialmente c'è quasi sempre stata. Nel corso degli anni, anziché essere dominio inglese, che adesso infatti nemmeno più partecipano alla fase finale, diventa dominio di altre nazioni. Vengono fortissimo fuori l'Italia, l'Ungheria, la Russia, la Spagna, cioè quel tipo di paesi. Nel 1956, alle Olimpiadi di Melbourne, il clima è meraviglioso, ci sono due Olimpiadi che si staccano da tutte le altre, 56 Melbourne, 2000 Sydney, sarà un caso. Le Olimpiadi in Australia hanno tutto un altro clima, si è letteralmente dall'altra parte del mondo, gli australiani sono geniali nella loro particolarità, unici nella loro configurazione, sono proprio pochi per abitare un territorio così grande, due birrette non le distinghiano e vivono in un clima di una convivialità che non è possibile altrove. Realmente sono delle Olimpiadi diversi, è una grande, grande scappatella. C'è un problema però, gli europei, i loro problemi li portano anche agli antipodi. Nel 1956 ricorderete che i cararmati sovietici entrano a Budapest. Succederà un'altra volta nella storia dell'impero sovietico che praticamente nella immediata successione dell'intervento armato all'interno di un paese della loro area di influenza, la nazionale del paese invaso giochi contro l'Unione Sovietica. Succederà dopo Praga 68, la grande cecoslovacchia di Nedomansky contro la squadra che non poteva perdere nel disco su ghiaccio, quella di Tretiak, Malzev, Mikhailov. Quella partita la vidi perché all'epoca si potevano vedere solo sulla TSI l'Italia e non faceva vedere i mondiali di occhi su ghiaccio. Per la verità li fa vedere poco anche adesso. E io mi bevevo ogni partita. Nel 1956 non ero nato, però ci sono i testimoni oculari e qualche immagine. L'Unione Sovietica è entrata a Budapest in Ungheria con i carri armati. Gli ungheresi sono in vasca contro di loro immediatamente dopo. Nonostante abbiano una grande scuola di palanuoto, realmente non c'è partita. Ma sugli spalti ci sono gli emigrati ungheresi che hanno lasciato il paese anni prima e che hanno cambiato il vessillo, ovvero sia il tradizionale bianco-rosso-verde per come è strutturato nella bandiera c'è ancora, ma non con quella configurazione. Sono aggiunti. La croce di Lorena è il simbolo di Kostut, antico eroe nazionale del 1848. Il pubblico ungherese invita i giocatori a rendere la gara una gigantesca rissa. Nella palanuoto, che a te proprio non piace, sott'acqua se ne fanno di tutti, di ogni proprio. Ma tecnicamente, sopra acqua, cercano di contenersi. In quella partita non si contiene nessuno. Botte in acqua. Cesare Rubini, che era presente, l'allenatore più vincente della storia della pallacanestro italiana, ma olimpionico a Londra nella pallanuoto, ha raccontato per anni, e mi ricordo di averlo ascoltato mentre lo faceva, che la piscina si tinse completamente di rosso. Il pubblico, intuendo lo sviluppo, non smise di incitare i giocatori a picchiarsi con gli ungheresi che avevano una carica sopra la media. I russi, anzi i sovietici, non stavano lì a prenderle. Diventò una gigantesca arena. Gli arbitri condussero la partita in porto, un paio di tifosi sovietici inneggiarono la squadra e le presero più di quelli che c'erano in acqua. La partita del 1956. Gli arbitri condussero la partita in porto,